Sono davvero tante le occasioni in cui Marco Pardini presenta il suo ultimo lavoro letterario L'Erbario Poetico. Numerose le comunità, le associazioni e anche le istituzioni che durante questa estate hanno invitato il popolare naturopata Pardini a parlare di erbi di piante ma soprattutto della sua ultima pubblicazione. Lo scorso anno il suo primo libro, Il Pianta Storie, fu di gran lunga il libro più letto in provincia di Lucca, risultato al di sopra di ogni più rosa e aspettativa. La stessa casa editrice Maria Pacini Fazzi ha dovuto ricorrere alla ristampa in più occasioni. Domenica scorsa Pardini è stato ospite a Castiglione Garfagnana dove, invitato dalla Proloco, ha raccontato anedoti e approfondimenti di argomenti affrontati nel libro. Ad ogni incontro comunque sempre tanta partecipazione del pubblico. Questo mercoledì 28 luglio alle 21.15 sarà ospite dell'associazione La Campagna a Turrite Cava in un incontro all'aperto davanti alla nuova sede dell'associazione. A condurre la serata ci sarà il suo amico, collega e compagno di tante trasmissioni, Abramo Rossi. La serata è ad ingresso libero e si accede nel rispetto delle normative vigenti.